Dunque, bella raga, buonasera, dunque sono appena conclusa le partite delle ore 15, fra una mezz'oretta circa, sono 17.25 adesso, inizierà Fiorentina-Napoli, vediamo se Napoli risponderà alla Juventus che ieri ha battuto l'Inter tra le polemiche 2-3, Europa ha vinto 4-1 ieri sul Chievo. Giornata ricca di gol, anche questa, ieri ce ne sono stati 10 in due partite praticamente, con un totale che sono arrivati se non sbaglio a 36 gol addirittura, con due gare ancora da giocare, dunque si può superare benissimo i 40 gol questa giornata. Dunque, una giornata che è iniziata alle 12.30, con una grande vittoria del Crotone, importantissima in chiave salvezza, 4-1 con il Crotone che è lanciatissimo, era praticamente in quindultima posizione, ha scavalcato pure l'Udinese, che è abbattuto e sta solo 4-1, non sta solo, che non è aritmaticamente ancora salvo. 3-1 invece dell'Atalanta, che passeggia sul Genoa, la gara è chiusa fino al 3-0, poi arriva il 3-1 di Miguel Veloso negli ultimi due minuti, tolto al Genoa, giustamente col VAR, il rigore concesso sul 3-1 stesso, al novantesimo per un presunto fallo di Mattia Caldani di Mano, che non c'era, l'arbitro era Michael Fabri della sezione di Ravenna, e dunque dopo il VAR ha deciso, giustamente, che non era rigore. Il Milan torna a vincere 2-1 dopo 40 giorni, addirittura in trasferta non vinceva dalla partita di Genova, 2-1 con gol di Crotone al novantatresimo, 1-0, scusate, a Genova in casa, e non vinceva in assoluto da 40 giorni, appunto, l'ultima vittoria sul Chievo Verona, 2-1, un Chievo Verona che ha appena esonerato, Rolando Maran, col Chievo ha vinto 3-2, Rolando Maran, dunque squadra affidata a fine a fine camionato, a Danna, all'estero è stato esonerato secondo esonero stagionale per Vincenzo Montella, credo che sia quasi un record, dunque anche Montella non è più allenatore del Siviglia, aperta e chiusa parentesi. Torniamo a noi, importante vittoria in chiave salvezza della SPAL sull'Ellas Verona, ormai Ellas Verona quasi spacciato e condannato alla Serie B, la SPAL che va a vincere 3-1 al Bentegodi con un gran gol di Jasmin Kurtic, e nonostante le tante assenze per la squadra di Leonardo Semplici, vince la Sampdoria che passeggia sul Cagliari 4-1 e inguaglia il Cagliari che adesso comunque non è ancora salvo, anzi sta a 4 punti dalla zona retrocessione se non sbaglio, dunque una lotta retrocessione che è davvero interessante perché l'Udinese non vince con il già retrocesso Benevento, ma addirittura fa 3-3 spettacolare con il Benevento in 10 che addirittura va in vantaggio sul calcio di rigore con Massimo Coda, poi in due minuti la Sagna fa doppietta, 3-2, 3-3 finale al novantesimo con il primo gol in Serie A di Bacarì Sagnà, e dunque un Benevento davvero che a mio parere l'ho detto da diverse settimane che non meritava più, non meritava assolutamente la Serie B, perché davvero soprattutto nel giorno di ritorno, ha fatto un giorno di ritorno straordinario, soprattutto se pensiamo poi ai punti persi dal novantesimo in poi, secondo me come squadra è superiore a Della Sverora, a Chievo Verona, al Cagliari e anche al Sassuolo, dunque mi dispiace per il Benevento e speriamo che ritorni presto ad assaporare di nuovo i campi della Serie A. Ma comunque un Benevento tutto cuore e grinda come il suo tecnico De Zerbi, e dunque ha pareggiato 3-3, Sordi Amaro dunque per Igor Tudor sulla panchina dei Friulani, e quantomeno però Tudor ha evitato la dodicesima sconfitta consecutiva per l'Udinese, e dunque trova il pareggio, l'Udinese che non vince da 13 giornate, ed è soltanto due punti dalla zona di retrocessione, zona di retrocessione come io ho preventivato, chi ci va per il momento? Il Chievo Verona, 31 punti, 25 Hellas Verona, dunque per il momento le due squadre di Verona sarebbero in Serie B, e a 18 punti il Benevento che è già retrocesso purtroppo dalla settimana scorsa, nonostante la vittoria a San Siro contro il Milan. Che dire, aspettiamo i risultati di Fiorentina-Napoli e di Torino-Lazio, una in chiave Scudetto, l'altra in chiave Champions League, vediamo se la Lazio riesce come la Roma a staccare l'Inter e andare a più 4, ricordiamo che l'ultima giornata c'è un interessantissimo Inter-Lazio, e dunque davvero un campionato che si fa in chiave Scudetto, in chiave Champions, in chiave Salvezza, molto molto interessante, a 3 giornate dalla fine, soltanto per Napoli, Fiorentina-Torino e Lazio sono 4 giornate, comunque per in realtà ne mancano 3. Vediamo cosa succederà, questo è un campionato davvero strano, può succedere davvero ancora di tutto. Per il momento è tutto, vi auguro una buona giornata, e sempre fino alla fine, ciao a io!